Positano News alla pasticceria Primavera in occasione del compleanno di Papa Francesco rappresentato in questo presepe di cioccolata, di casette di favelas brasiliane, di calciatori di cioccolato, di zucchero con il panettone e la rappresentazione del mondo brasiliano Papa Francesco domani festeggia il suo compleanno e molti fedeli ringrazieranno la sua amicizia noi di Positano News qui alla pasticceria Primavera sull'idea di Antonio e della redazione facciamo gli auguri al Papa ciao a tutti